Nel mese di maggio scorso, Anchefano fu inondata da un'eccezionale quantità d'acqua piovuta dal cielo, che allagò campi, case e fabbriche, procurando notevoli danni a tutto ciò che esse contenevano. Furono momenti difficili, che però, come accadde in Emilia-Romagna, diedero modo ai volontari della protezione civile, che fanno parte del club Enrico Mattei, di distinguersi per l'aiuto prestato a tutti coloro che ne avevano bisogno. Questa mattina il vice sindaco Cristian Fanesi, insieme al sindaco Massimo Seri e al dirigente dei lavori pubblici Federico Fabri, ha annunciato una buona notizia. Si sono aperti i termini perché coloro che hanno ricevuto danni possono presentare domanda per ricevere gli aiuti statali. A disposizione ci sono al momento 8 milioni di euro. Sentiamo Fanesi. La manifestazione alla cittadinanza che abbiamo fatto invita tutte le persone che risiedono, che hanno attività all'interno del Comune di Fano, a fornirsi tutta la documentazione perché in quel caso il Comune di Fano potrà risarcire i danni subiti a seguito degli eventi alluminari successivi al maltempo del 1 maggio 2023. A questo bando potranno accedere sia le imprese, sia le persone che hanno abitazioni di edilizia abitativa. Potrà essere rimborsato in parte o tutto il danno subito. Ovviamente il Comune di Fano cercherà di rendere agevole l'accesso alle piattaforme per poter fare le dichiarazioni che potranno arrivare da parte dei titolari o legali rappresentanti nel caso dell'impresa oppure dei proprietari degli immobili soggetti a quei danni che sono stati subiti. Per agevolare, per venire incontro in maniera tale che queste cose possano essere fatte anche più velocemente, l'amministrazione comunale si rende disponibile, ha aperto un numero a cui rispondiamo per dare tutte le informazioni possibili per poter raggiungere questo obiettivo. Inoltre abbiamo organizzato anche una riunione con chi volesse essere informato, chi vuole degli approfondimenti, che faremo il 30 gennaio alle ore 17 presso la sede del CB Club Mattei in zona Codma. Mentre per rispondere al telefono esiste un numero di telefono e esiste anche la possibilità di contattarci lunedì, mercoledì venerdì il mattino dalle 9 alle 13. Si sa in quale percentuale verranno ripagati i danni? Le domande che saranno richieste saranno valiate dall'amministrazione comunale e saranno inviate al Governo per potenzialmente ricevere la totalità delle spese subite. I soldi sono messi a disposizione dal Governo e quindi attraverso il Comune verranno ripartiti alle persone che ne avranno diritto con delle tecniche, comunque con dei passaggi amministrativi abbastanza complicati che noi come Comune di Fano cercheremo di rendere il più veloce possibile.